Per quanto ci abbiamo creduto, sì, per come si era messo il risultato moleri no, però a volte valgono anche le prestazioni di carattere, comunque crederci fino alla fine, quindi ci abbiamo creduto fino alla fine, poi penso che oggi è stata una partita molto difficile e particolare, risolverò in questa maniera, quindi è un'altra più felicità di tutti. Il calcio è anche poesia, doppietta di Totti quando ormai tutto sembrava perso. Come l'hai vissuto? Io ripeto sempre che la voglia sua c'è, le qualità ci sono, quindi si fa vincere anche le partite. Entrando possiamo essere più felici sia come squadra, come Piazza, come gruppo e come Roma. Quindi lui sta dimostrando di esserci, di volerci essere, ci sta dando sempre una grande mano, si gioca 5, 10, 20 minuti, mezz'ora, una partita intera. Se lui fa questo per noi possiamo essere soltanto felici e se lui sia felice uguale. Tu dovresti il contatto per un altro anno? Io, ragazzi, sinceramente se piate per quello che fa direi che sì, poi le problematiche che ci sono non lo so, però per quanto sia giocatore, per quanto lo conosco da persona dentro lo spogliatore, io non posso dire niente di male. Alla fine possiamo chiudere con una battuta, ma alla fine è carta che ha vinto. Non abbiamo giocato la carta, è una cosa che scrivete voi. Ciao, grazie. Ciao, grazie.